Claudio Spadoni che è il direttore del Mar di Ravenna e con il quale dialogheremo su questa mostra che è cominciata domenica Lei li è la voi perché non conosco te la notte Prego Allora Claudio sono Antonio Buongiorno Finalmente abbiamo portato in porto questa mostra che doveva cominciare una settimana scorsa e che è stata ritardata dagli eventi climatici Come è andata? E' andata molto bene Il fatto che la viene una tormenta di neve ci ha costretto a rinviare di una settimana la mostra stessa ma che all'inaugurazione ha comunque avuto una folla enorme di visitatori e prima anche di giornalisti quindi tutto bene E quindi hai cominciato a presentare Giovanni Testori che è uno dei massimi storici dell'arte Tra l'altro discepolo di Roberto Longhi polemista con Arcangeli che è stato poi invece il tuo punto di riferimento E voglio dire Come hai fatto a mettere insieme tanti capolavori per illustrare tutti gli interessi di Testori? E' stata una mostra costruita naturalmente in un tempo abbastanza lungo ma con l'aiuto anche di diversi testoriani In primis i suoi parenti anche che da lui avevano ereditato anche o acquistato tramite lui diverse opere e che quindi gli hanno fatto dei prestiti pressivosi e testoriali per eccellenza Poi probabilmente ripercorrendo attraverso i suoi scritti tutta la storia dello storico dell'arte del critico e del polinista Testori abbiamo cercato di mettere il maggior numero possibile di opere che Testori aveva o studiato direttamente o citato nei suoi saggi e che rientravano appunto in quei cinque secoli di storia dell'arte che la mostra prende in considerazione a partire dal fine del Quattrocento con due pittori straordinari come il Foppa e Gaudenzio Ferrari e poi su fino agli anni Ottanta del secolo scorso quando Testori spese la sua militanza critica per artisti saliti all'arribata proprio in quel momento pittori come i tedeschi nuovi selvaggi ma anche come Cucchi o come Paladino e naturalmente in questi cinque secoli sono distribuiti gli artisti prendimenti da Testori e opere relative in molti casi opere appunto che addirittura erano appartenute a Testori che era un grande collezionista faccio il caso di Géricault ad esempio ma anche Courbet ed altri e in altri casi come dicevo opere testoriane perché Testori se ne era occupato in prima persona magari restituendo all'attenzione generale degli artisti che erano stati trascurati o quasi dimenticati e comunque rileggendo tutta la linea che va dalla fine del 400 in Lombardia fino a tutto il 700 con tra Galgari e Ceruti rileggendo in modo del tutto diverso anche rispetto a quella linea tracciata da Roberto Nondi che era stato il suo maestro ideale anche se non maestro reale impressionisti e post impressionisti comunque sono tralasciati non rientrano nell'indagine di Testori che invece redilige moltissimo anche per esempio diciamo la transavanguardia ma non come corrente in sé come singoli personaggi come singoli personaggi ecco Testori non ha mai amato in modo particolare gli impressionisti e i post impressionisti pur naturalmente rispettando e apprezzando gli impressionisti soprattutto Cezanne ma insomma non al punto da dedicare degli studi importanti su di loro come non ha amato particolarmente dei post impressionisti anzi anzi indicando Gauguin come il pittore l'artista che ha aperto una via una via fuori fuori rotta ecco per l'arte proprio la ricerca di primitivismi e di esotismi che a suo avviso hanno confuso le idee a tutto da serie di artisti successivi Claudio chiedo scusa e invece poi si è occupato singolarmente di artisti ecco tu dicevi della transavanguardia ma non gli interessava in quanto tale come movimento gli interessavano i singoli artisti e proprio le singole opere o cicli di opere come Fontana Vista di Cucchi oppure I Veli della Veronica di Paladino opere di cui lui ha scritto che lui stesso ha presentato perché gli interessavano in quanto opere intensamente espressive Claudio chi volesse venire a Ravenna troverà ovviamente delle sistemazioni alberghiere già predisposte da voi per ovviamente facilitare naturalmente noi abbiamo delle convenzioni con alberghi e quindi noi cercheremo di offrire tutte le agevolazioni possibili a coloro che vogliono salire dal sud a Ravenna ma anche da qualsiasi altra parte d'Italia ovviamente perché credo che questa sia una mostra non facilmente ripetibile anzi come hanno confirmato poi tutti i testoriani doc che sono venuti a vederla per l'inaugurazione una mostra irripetibile una mostra irripetibile e con capolavori anche difficilmente difficilmente visibili se non in una serie di raccolte private o di fondazioni o in vari musei cito tra i capolavori in mostra per esempio le opere di Tanzio da Varallo del Cairo di tra Galgario e il Pitocchetto ognuno dei quali ha una sala a disposizione e poi una piccola c'è una piccola antologica di Morlotti e poi Bacon Giacometti Sutherland e naturalmente naturalmente anche Caravaggio presente con un capolavoro che è quello più visto forse in tutta la sua vita da testori perché è un ragazzo morso dal ramarro della fondazione Longhi che testori vedeva tutte le volte che si trovava appunto a Firenze alla fondazione e che anzi si trovava nella camera dove lui dormiva quando era ospite della fondazione stessa Claudio quindi abbiamo tempo fino al 17 giugno per venire d'accordo? certamente vi aspetto in tanti grazie grazie mille grazie grazie a voi grazie a voi